Le prospettive del PNRR per quanto riguarda la località di Ovindoli? Proprio qualche giorno fa in Consiglio Comunale abbiamo approvato progetti per quasi 4 milioni di euro. Nel prossimo mese di aprile abbiamo un ulteriore budget dal fondo complementare che comunque verrà destinato alla località di Ovindoli. Abbiamo approvato questi progetti che riguardano la riqualificazione delle piazze di Ovindoli Capoluogo e delle due frazioni San Potito e Sant'Aiona. Il nuovo campo da calcio che non sarà solo campo da calcio ma verrà fatto un centro sportivo con anche strutture complementari, campo da paddle e strutture anche ricreative. Per poi completare il tutto, già approvato questo come dicevo in Consiglio Comunale, con alcuni parcheggi e alcune strade per potenziare sia la viabilità che i parcheggi. Con l'ufficio tecnico rispetteremo appieno come abbiamo già rispettato le scadenze, noi entro giugno andiamo con gli appalti lavori.